Biandrata è arrestato per omicidio stradale l'autista del camion che stamattina ha investito e ucciso un sindacalista, proclamati tre giorni di sciopero. La guardia costiere tornata sul lago Maggiore si tratta del quattordicesimo anno di un'attività che guarda soprattutto alla prevenzione. Cerimonia in piazza e mercato Domodossola, poi le visite, da oggi Palazzo San Francesco con le nuove collezioni ha riaperto al pubblico. Due seggiovia a quattro posti con cupolino per la chiusura nel futuro degli impianti del comprensorio Burki Belvedere a Macugnaga. Riapre il parco di Villa Fedora a Baveno, da domani parzialmente e dalla prossima settimana completamente dopo lavori per 400 mila euro. Domani si corre tra stresa e verbagna la lago Maggiore Alf Marathon, dal tardo pomeriggio la chiusura delle strade. Ben ritrovati dalla redazione di VCO Notizie in apertura di giornale il tragico incidente di questa mattina a Biandrate. È stato arrestato per omicidio stradale e resistenza a omissione di soccorso dai carabinieri e poliziani, un'operazione congiunta all'autista del camion che alle 7.30 di questa mattina ha travolto e ucciso il coordinatore interregionale del SICOBAS Adil Belagdin di 37 anni davanti ai cancelli della Lidl di Biandrate durante una manifestazione di lavoratori della logistica. Secondo quanto ricostruito l'autista del mezzo pesante, che lavora per conto di una ditta incaricata dalla Lidl, si trovava incolonnato dietro ad altri mezzi all'interno dell'area del centro di distribuzione sulla corsia di uscita, ma spazientito dell'attesa, ha improvvisamente invoccato contro mano la corsia di entrata, muovendo il mezzo con ripetute accelerazioni. I manifestanti che si trovavano davanti non si sono spostati, gridando e battendo le mani sulla cabina motrice. I poliziotti della Digos di Novara che si trovavano sul posto sono intervenuti immediatamente e hanno mostrato il tesserino intimando l'alta al conducente. Questi ha però proseguito la marcia e superati i cancelli ha svoltato a destra per immettersi sulla carreggiata, travolgendo il 37enne. E poi il camion è fuggito. Gli agenti della Digos hanno soccorso il ferito e si sono lanciati all'inseguimento. Il conducente del mezzo una volta raggiunto il casello autostradale Novara Ovest della 4 ha chiamato il 112 ed è stato fermato poco dopo da una pattuglia dei carabinieri. Per il 37enne invece purtroppo non c'era più nulla da fare. Sotto shock i presenti, i due sono anche finiti in ospedale con lievi lesioni. Bella Gdim era residente a Vizzolo Predavissi, nell'area metropolitana di Milano e lascia due figli di 15-17 anni. Unanime il cordoglio, a cominciare dal premier Mario Draghi che ha chiesto che si faccia luce sull'accaduto, ma le reazioni non sono mancate anche a livello locale e regionale. Il segretario generale della CIS a Piemonte Alessio Ferraris dichiara che quello che è accaduto è disumano e inaccettabile e ci porta agli anni bui della nostra storia e ci interroga sulle condizioni di lavoro sul rispetto di diritti fondamentali. L'assessore al lavoro Elena Chiorino ha detto che è inaccettabile che nel 2021 si muoia ancora sul posto di lavoro. Quello che è accaduto oggi rappresenta l'ennesima tragedia su cui tutti noi abbiamo il dovere di riflettere e di una situazione molto tesa da giorni all'interno dello stabilimento, parla il consigliere regionale del PD Domenico Rossi. E tutte le sigle sindacali esprimono vicinanza e cordoglio ai familiari del lavoratore sindacalista deceduto. CGL Cisle Will unitamente a Filcams, Fiscate e Wiltux di Novara e Verbano Cusiossola condannano quanto avvenuto e si attiveranno in ogni sede affinché sia fatta luce giustizia. Filcam, Filskatz e Wiltux hanno denunciato alla Lidl da tempo le condizioni lavorative chiedendo risposte e soluzioni che sono state puntualmente disattese, dicono, dall'azienda e questo ha influito sul clima di esasperazione ma non si può morire, continuano i sindacati mentre si esercita il diritto a manifestare e non si devono mettere i lavoratori contro i lavoratori. Proclamato lo sciopero per l'intera giornata odierna e per le giornate di sabato e domenica. Ed ora parliamo del ritorno della Guardia Costiera sul Lago Maggiore per il quattordicesimo anno. Torna anche quest'anno a vegliare sul Lago Maggiore la Guardia Costiera, come affrontate questa nuova stagione, ormai 14 anni? Ovviamente il quattordicesimo anno portiamo tutta l'esperienza di questi anni passati, per noi è veramente un servizio che ci inorgoglisce perché poter servire anche la comunità del lago per noi è un'operazione che ci piace molto. Chiaramente una grossa attività di prevenzione soprattutto e poi un supporto alla comunità proprio perché si possa godere delle attività di portisti che si possa godere del lago in modo tale che veramente possiamo avere un lago sicuro. Siamo qua per i cittadini, siamo qua per l'utenza, siamo qua per la ripartenza delle attività, in particolare sulle attività turistiche. Quanti sono gli uomini che lavoreranno qui nella vostra sede? Allora nella nostra sede gli uomini saranno 16 uomini, poi si aggiungerà qualcuno, qualcuno verrà sostituito perché chiaramente c'è un'attività H24, quindi c'è un presidio radio e telefonico 24 ore su 24 con i due equipaggi per poter fare il servizio sul lago con due unità navali ormai consolidate qui sul nostro lago. Quindi facciamo una turnazione di tutte le attività operative garantendo il servizio H24. Lei ha parlato di prevenzione, l'anno scorso avete sorpreso qualcuno che non rispettava le regole? Beh sì, diciamo che poi c'è sempre chi ne approfitta, c'è chi vuole andare oltre le regole, quindi noi ripeto, la nostra e soprattutto ci piace fare un'attività di prevenzione, però poi bisogna fare anche un'attività di repressione. Devo dire che l'anno scorso tutto sommato lo svolgimento delle attività sul lago sono state abbastanza tranquille, un po' meno nel 2019, in modo tale che abbiamo notato che c'è stato un po' più di attività a mare, quindi con interventi anche notturni, quindi insomma cerchiamo di educare piuttosto che reprimere. Come si può fare per contattarvi in caso di bisogno? Ma è molto semplice, o il 1530 che è il numero blu della Guardia Costiera o il 112. In Piazza Mercato a Domodossola nel tardo pomeriggio di oggi la presentazione pubblica degli interventi eseguiti a Palazzo San Francesco e dei nuovi musei civici Gian Giacomo Galletti dopo 40 anni e con un investimento di 800 mila euro l'importante realtà culturale è stata restituita alla città molto partecipato, lo vedete il momento, in piazza presenti autorità religiose, civili, militari, tanti amministratori ossolani, il mondo economico e poi tanti cittadini. Ha partecipato il vescovo Monsignor Franco Giulio Brambilla in virtù della bella collaborazione avviata con la diocesi di Novara per la mostra allestita al piano terra del palazzo. È stato un momento di festa per tutta la città, organizzato in piazza proprio per coinvolgere il più possibile l'intera comunità domese in un solo e alla vigilia della festa patronale. Visibilmente emozionati il sindaco Pizzi, l'assessore Folino, il conservatore D'Amico per questo importante risultato raggiunto. Poi le visite al palazzo. Riconoscimenti sono arrivate anche dai colleghi politici. Il leghista Marco Bossi afferma che l'attuale amministrazione e i suoi collaboratori va dato il giusto riconoscimento per aver raggiunto questo traguardo aprendosi allo stesso tempo a nuovi scenari a cui ambire in futuro per Forza Italia. L'onorevole Cristina e la coordinatrice cittadina Oliva parlano di una grande emozione e di un importante segnale di fiducia e ripartenza per la città e per l'intera ossola. La dimostrazione che dicono anche in tempi difficili, con capabilità e impegno, i buoni progetti possono diventare realtà. E dicevamo della mostra temporanea in collaborazione anche con la diocesi di Novara, ce la racconta il curatore Antonio D'Amico, che sarà ospite del nostro direttore Maurizio De Paoli questa sera alle 21 al Sasso nello Stagno, proprio per parlare del nuovo Palazzo San Francesco. Il settimanale in onda anche domani, sabato alle 17 e domenica alle 14. Al piano terra del rinnovato Palazzo San Francesco, la mostra temporanea Incanto e disincanto, la forza delle idee, curata da Antonio D'Amico e allestita fino al 31 di dicembre. Che cosa racconta? La forza delle idee da Francesco D'Assisi a Gian Giacomo Galletti, alla Fondazione Galletti e poi agli uomini che oggi hanno e abbiamo fatto Palazzo San Francesco. Vuole essere un omaggio a questo palazzo, che prima di tutto è una chiesa medievale che fonda le sue radici alla fine del 200 e quindi vede protagonista Francesco D'Assisi. E da lì la Fondazione Galletti, Gian Giacomo e quindi poi ancora una volta un sacco di uomini e di donne che da collezionisti, da amatori, da protagonisti anche del loro tempo hanno voluto che Palazzo San Francesco diventasse un polo culturale per Domodossola, per l'Ossola e non soltanto, anche per un territorio tra virgolette sprovincializzato. E allora questa mostra da una parte ci racconta la ritrattistica di Gian Giacomo Galletti, l'attività della Fondazione Galletti e poi vuole essere un omaggio a Francesco D'Assisi con opere che arrivano dalla Diocesi di Novara, mi piace ricordare questa bella collaborazione con la Diocesi, un murriglio alle mie spalle, un'opera che appunto arriva dall'America, siamo molto felici di questo e si parte in questo piccolo percorso francescano con Federico Barocci che è il pittore dei sentimenti della controriforma, per poi culminare in Guercino che questi sentimenti li mette in pratica anche con il colore. Guercino arriva dalla Cattedrale di Novara, oggetto di un furto, è poi tornato a casa ed è stato collocato a Palazzo San Francesco nello spazio un tempo occupato dall'altare maggiore. E dall'altra parte appunto murriglio, in una versione inedita che viene presentata in Italia, qui a Domodossola per la prima volta. Io l'ho visto un po' di tempo fa in un'asta americana e non pensavo mai e poi mai che potesse arrivare a Domodossola però le vie del Signore sono infinite e quindi ci credo fermamente in questo perché quando sono entrato in contatto con un gallerista, questo signore mi ha detto guarda secondo me è impossibile però non arrendiamoci. E allora siamo arrivati all'antico collezionista che mi ha messo in contatto con l'attuale proprietario americano e questo proprietario americano aveva una nonna di Domodossola. E allora per via di questa memoria l'opera ce l'abbiamo qui. Ed ora parliamo del prossimo futuro degli impianti sciistici di Macugnaga del comprensorio Burki Belvedere. Il progetto maggiormente condiviso in sostituzione delle attuali prevede due seggiovie a quattro posti. Due seggiovie a quattro posti ad agganciamento automatico con cupolino di chiusura. Ecco il futuro per gli impianti di risalita Burki Belvedere a Macugnaga. L'aggiornamento sull'accordo di programma con la Regione Piemonte per la sostituzione degli attuali impianti del comprensorio arriva dall'amministrazione comunale che spiega dopo parecchi mesi di valutazione e analisi in Monterosa 2000, titolare del procedimento, ha inviato alle parti, Comune e Regione, uno studio di fattibilità relativo allo sviluppo delle nostre aree sciabili. Con attenta e precisa analisi di diverse tipologie di impianti si è definita questa scelta anche in base a costi futuri di esercizio, gestione e manutenzione. Questo comporterà comunque una richiesta ulteriore a livello economico da aggiungere alla cifra già stanziata precedentemente. L'amministrazione macugnaghese precisa che la tipologia scelta è sicuramente la più condivisa. Nello stesso tempo renderà la struttura impiantistica moderna, efficiente e aggiornata a tutte le stazioni limitrofe, considerando anche la velocizzazione del trasporto utenti in stagione invernale in una zona che rimane non soleggiata fino a fine febbraio. Considerato non sostenibile un impianto con maggiori portata oraria come una cabinovia. Alla luce dei nuovi tragici eventi, gli impianti a fune così vetusti avranno sicuramente grossi problemi ad avere proroghe da parte dell'organo ministeriale competente Ustif per cui, concludono da Macugnaga, verrà richiesta la massima celerità da parte dell'organo regionale per addivenire in brevissimo tempo alla definizione dell'ipotesi già avanzata e progettata. Ed ora la riapertura del parco di Villa Fedora a Baveno dopo i lavori eseguiti. Una buona notizia per Baveno, per i residenti e anche per i tanti turisti. Sabato riaprirà una parte del parco di Villa Fedora in attesa della riapertura definitiva e totale la prossima settimana. Sindaco? Siamo agli ultimi momenti di chiusura del parco, siamo contenti, abbiamo fatto un grande lavoro con 400 mila euro di investimento. Sabato apriamo il parco giochi, il percorso vita. Ci farà la riapertura dell'ingasso principale e settimana prossima lo apriremo definitivamente tutto. Com'è cambiato il parco? Beh, è rivoluzionato. È rivoluzionato perché abbiamo fatto tantissimi lavori, a partire dai lavori con la spiaggia fino a un nuovo parco giochi, un nuovo percorso vita, nuove piantumazioni. Insomma, abbiamo avuto tanti danni nel 2019. Insomma, un bel parco per tutti, per le famiglie e per i nostri bambini. Deve diventare il parco di Villa Fedora un punto di riferimento e un punto di forza nell'offerta turistica della città. Assolutamente. È un'offerta turistica, ma anche per tanti bavenesi, perché è un parco dove noi portiamo i nostri ragazzi, i nostri bambini per divertirci, come con la spiaggia, il chiosco. È un punto principale della nostra città. E poi con la speranza che quando sarà finito il Covid si possa tornare ad ospitare eventi e ad organizzarli. Beh, Baveno li ha sempre fatti in quel parco e quindi quest'anno sarà un anno ancora un po' difficile da questo punto di vista, però dall'anno prossimo ci sarà un programma turistico in quel parco molto molto importante. Dopo la recente tragedia al Mottarone, l'amministrazione Severino si è attivata per aiutare la ripresa delle attività in vetta gravemente penalizzate. Come primo segnale spiega il sindaco stresiano abbiamo creato un'immagine promozionale con il claim I love Mottarone con cui verranno realizzati striscioni da posizionare in città e sulla strada che sale in direzione della vetta. Abbiamo chiesto ad altri comuni di partecipare e con piacere la risposta affermativa è già arrivata da Arona, Baveno, Casale Cortecerro, Gravellona, Toce, Omenia e Verbania. È un primo passo a cui ne seguiranno altri, conclude Marcella Severino, sicuri che altre amministrazioni ci seguiranno. Amiamo il Mottarone, dice, la montagna non ha colpe. A causa di ulteriori adempimenti da effettuarsi da parte della commissione elettorale rinviata data da destinarsi, l'elezione del nuovo consiglio direttivo della CVC Occhera è in programma il prossimo lunedì. Intanto continuiamo la presentazione dei candidati alla presidenza. Ieri abbiamo sentito Superina, oggi è la volta dell'altro candidato, si tratta di Beppe Zagami. Gli abbiamo chiesto il motivo per il quale ha deciso di mettersi in gioco. Io adoro il territorio ossolano, adoro il territorio del VCO. Io organizzo non solo il Valle Ossolane ma anche il Ralea Rubinetto che abbraccia il Cusio, che abbraccia tutta la parte del Verbano. Comunque quando un paio di anni fa il presidente Donato Cataldo era venuto in una delle nostre manifestazioni, aveva auspicato che appunto il suo successore fosse io e quindi ho chiamato suo figlio Emilio e ho detto che probabilmente è l'ora di prendere il posto di papà. Emilio ha sposato in pieno, felicissimo, di questa mia scelta. Come secondo lei dovrebbe cambiare l'ACI del VCO e se deve cambiare rispetto al passato? L'ACI del VCO è un ACI inattivo e questo ne devo dare merito ovviamente a chi ci lavora, ai ragazzi che lavorano, al professore Donato Cataldo che ha condotto l'ACI fino a questo momento. Non è vero che il Rally Valle Ossolane ha creato il debito dell'ACI. L'ACI deve migliorare secondo me sotto alcuni aspetti e ci proveremo col Consiglio Direttivo a migliorarlo per quanto riguarda la comunicazione, che è una comunicazione che deve essere chiara, istantanea, perché ormai con il tempo di Covid ovviamente dobbiamo dare al socio, all'associato, tutte le informazioni e tutti i servizi il più breve tempo possibile, trattando anche dei siti internet o delle app dedicate. E poi ovviamente, io ho già parlato in precedenza di fare dell'educazione stradale all'interno delle scuole con la polizia stradale, con i carabinieri e con qualche campione rallyista o solano, perché no? L'educazione stradale è fondamentale. E poi un'idea che mi è venuta qualche giorno fa è proprio l'educazione stradale anche per le neomamme che per la prima volta dovranno andare in giro con i loro bimbi nelle strade e quindi dovremmo sicuramente fare attenzione a tutto quello che riguarda la mobilità. Mobilità non parlo soltanto motoristica, ma mobilità anche ciclistica e anche, perché no, anche della gente che va a correre a piedi. Consegnato al personale del DEA dell'ospedale di Borgomanero un monitor defibrillatore multiparametrico donato dal Rotary Club Borgomanero Arona con l'importante contributo del distretto Rotary 2031 e dei Rotary Club Orta San Giulio e Gattinara. Il defibrillatore donato verrà utilizzato per migliorare la qualità della rianimazione nelle situazioni di emergenza. L'apparecchiatura, grazie al suo funzionamento intuitivo e veloce, la facilità di trasporto è un dispositivo medico fondamentale sia nella fase di rianimazione che in quella di gestione del post-arresto cardiaco. Nei giorni scorsi la prima messa nel suo paese, Crodo Ore, il giovane Don Luca Longo opererà a Omenia al fianco di Don Gianmario Lanfranchini. Si occuperà della pastorale giovanile, questo fine settimana all'inizio del suo ministero sacerdotale nel capoluogo Cusiano, domani messa alle 18 in collegiata e domenica funzione alle 10 e 30 nella chiesa di San Gaudenzio a Crusinallo. Da alcuni giorni la diogesi di Novara ha un nuovo sacerdote e la parrocchia di Megno ha un nuovo prete che si occupa dei giovani e dell'oratorio. Un ragazzo giovane, ma perché un ragazzo della tua età che si trova così bene in mezzo agli altri ragazzi ha deciso proprio di fare il prete? Non poteva fare un altro mestiere? È un po' provocatoria la mia domanda. Provocatoria ma molto interessante e bella perché pensare di essere giovane tra i giovani con un impegno forte e di un certo valore ha il pregio di dire investo la mia vita per qualcosa di importante, di bello per cui ne vale la pena veramente mettersi in gioco. Il Signore fa veramente grandi cose e in questi giorni, in questo tempo già condiviso nelle parrocchie del Cusio è proprio bello sentirsi amati sia dal Signore che è la scelta di vita ma dai giovani, dalle persone delle nostre parrocchie. Un altro lavoro, ero già geometra però non bastava, non bastava probabilmente al mio spirito al mio relazionarmi con gli altri. Potevo dare qualcosa in più, allora ho scelto. Qual è il tuo compito qui nella parrocchia di Omegna? È un'esperienza a 360 gradi sulla parrocchia la parrocchia non è soltanto settoriale ma è una comunità per cui anche il prete dell'oratorio deve proprio entrare nel vivo della comunità partendo ovviamente dai giovani accompagnandoli nella comunità. Don Luca non ci sente, ma è simpatico questo prete? Sì, sì, certo, è molto simpatico, molto socievole con tutti i ragazzi. È capace perché sa prenderti e sa invogliarti a fare le cose è una figura che ti aiuta, che ti sostiene, che ti aiuta in tutto. Le iniziative estive nel Parco Nazionale della Val Grande domani riparte 70 sfumature di parco. Parte l'estate in Val Grande, anche quest'anno tanti appuntamenti. Sì, molti appuntamenti che tutti potranno vedere sul sito del parco collegandosi a www.parcovalgrande.it oggi in particolare vorrei parlare di uno che è il proseguimento e l'ampliamento dell'iniziativa che le guide del parco, le guide ufficiali del parco hanno già fatto l'anno scorso quindi anche un sistema per, un'iniziativa per aiutare la ripartenza del nostro territorio si chiama 70 sfumature di parco e già a partire da questi sabati fino a novembre ogni sabato ci sarà un'escursione accompagnata dalle guide ufficiali del parco quindi in totale sicurezza escursioni per tutti, per famiglie e anche con un valore aggiunto in più che è quello della presenza della guida ufficiale che è in grado di dare una lettura del territorio che magari una persona che non che non frequenta abitualmente il nostro parco non fa quindi letture storiche, letture naturalistiche una esperienza io credo da fare appunto sono già disponibili tutte le escursioni l'elenco delle escursioni sul sito del parco ed è un'occasione secondo me per invitare i verbanesi a scoprire o riscoprire parti del loro entroterra e per chi viene da fuori Verbagna per provare un'esperienza a contatto con la natura quella vera Per iscriversi? Per iscriversi si trovano tutte le informazioni all'interno del sito del parco quindi www.parcovalgrande.it c'è la sezione eventi ed appuntamenti all'interno 70 sfumature di parco Le due ruote in apertura di pagina sportiva giornata di grande effetto per il ciclismo del VCO ai campionati italiani a cronometro che si corrono a Faenza da prima il quinto titolo tricolore della specialità per Elisa Longo Borghini che coi colori delle fiamme oro ha preceduto di un primo e 10 secondi Soraya Paladin del team Live e di 1,58 Tatiana Guderzo delle fiamme azzurre la gara successiva delle donne juniore si è stata vinta da Francesca Barale Villa Dossolese del V02 Team Pink che ha preceduto la compagna Carlotta Cipressi di meno di un secondo in gara proprio in questi momenti Filippo Ganna nel TG di domani il servizio sulla giornata ciclistica tricolore Ed ora la corsa domani torna la Lago Maggiore Alf Marathon attenzione alla chiusura delle strade Domani torna la tredicesima Lago Maggiore Alf Marathon si corre al tramonto da Stresa a Verbagna Start alle 18 per la 21 km e alle 19 per la 10 km quest'ultima partirà da Fondotoce in gara anche la sindaca di Verbagna Silvia Marchionini tra i top runner i primatisti europei Vanters e Moen e Lorenza Beccaria per le donne nella 10 km attesa la prestazione di Giovanna Selva tra gli uomini Marco Giudici e Antonino Lollo Per entrambe le gare seconda partenza per i non competitivi 5 minuti dopo gli agonisti Per tutti l'arrivo è a Verbagna Pallanza L'evento saltato lo scorso anno a causa della pandemia in questo 2021 è intitolato a Davide Bolognini Attenzione alla chiusura delle strade Off limits al traffico il tratto da Piazza Marconi a Stresa alla rotonda di Feriolo dalle 17 alle 19 Da Feriolo alla rotonda di Fondotoce non si passa dalle 17 alle 20 Interdetto il traffico per il passaggio dei Maratoneti dalla rotonda di Fondotoce alla Beata Giovannina dalle 17 alle 20 e 30 Infine non si transita a Pallanza a lungo via Truboscoi via Castelli piazza Gramsci piazza Giovanni XXIII via Cavallini Corso Zanitello e piazza Garibaldi dalle 17 alle 21 Ed ora la corsa in montagna e saliamo nella Valle dei Pittori È tutto pronto in Valle Vigezzo per la sesta edizione della Sfadi A la corsa in montagna in programma domenica 20 giugno 120 finora gli iscritti Le iscrizioni sono comunque ancora aperte tramite il sito www.trofeobonzani.it Tre i percorsi di gara Quest'anno, spiega il presidente del gruppo organizzatore Paolo Terruggia oltre alla classica la 18 chilometri e 1500 metri di isrivello che raggiungerà la Piana di Vigezzo e il Gabun abbiamo previsto anche un giro da 11 chilometri e 700 metri di isrivello come terza possibilità anche il mini giro da 3 chilometri e mezzo tra Craveggia e le sue frazioni una manifestazione che cresce di importanza con il passare delle edizioni questa nata in ricordo di Graziano Bonzani compianto capo stazione della Piana di Vigezzo prematuramente scomparso tanti volontari e le associazioni che opereranno per la parte logistica e di sicurezza della gara lo start è fissato domenica alle 8.30 da Craveggia Ed è tutto per questa edizione vi ciò azzurra tv.it e le nostre pagine social per gli aggiornamenti grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi Grazie a tutti